Io non ho un testo scritto, preparato, ho lavorato sull'insieme delle norme, quindi in qualche modo sono più agevolato perché non seguo un ragionamento dottissimo come quello che ho sentito prima, che è assolutamente per un convegno di infinissimi giuristi. Naturalmente qui siamo di fronte all'INU e quindi il ragionamento è, se mi fate finire c'è un ragionamento, di fronte a questi interventi così dotti i giuristi sono ancora più odiati per la semplice ragione che non si fanno capire, il che non significa che io non abbia assolutamente condiviso soprattutto le finissime osservazioni di Bellomia, però mi rendo conto che naturalmente né un convegno che ha soprattutto urbanisti eccetera, la questione può diventare faticosa, era solo questa osservazione, quindi anzi, ho visto che hai il testo scritto e avrei molto piacere di… Detto questo, però siccome io mi ero ritagliato una cosa molto più semplice che è la questione delle funzioni che sono state toccate dai miei due precedenti oratori, voglio però dire una cosa su questa questione che in effetti è un problema di Roma capitale che in qualche modo è, come dire, una struttura particolare all'interno del sistema delle città metropolitane. Ora certamente Roma capitale costituisce una specialità rispetto alle città metropolitane così come sono costituite e sarà un problema da affrontare con attenzione rispetto alla mole delle norme che ha citato Salvatore. Però faccio notare, ma è oggetto di approfondimento che anche a Londra, la parte centrale di Londra ha un suo statuto particolare, che Parigi ha l'Ile de France che ha una sua disciplina e quindi inevitabilmente, sto parlando di capitali, perché Londra e Parigi sono capitali e quindi inevitabilmente la questione della particolare specialità del soggetto comune di Roma si tratterà di trovare un elemento di amalgama. Peraltro nella filosofia di stasera e del nostro ragionamento non credo che a noi ci giovi, come dire, rimarcare questo atteggiamento di supremazia di Roma rispetto alla città metropolitana. Perché se uno dei problemi che abbiamo sempre avuto nella città metropolitana è stato quello di creare una forma di vasi comunicanti con l'area metropolitana in modo da far sì che tutta l'area metropolitana si giovi di funzioni, di mezzi, eccetera, e questa posizione di supremazia di Roma forse non giova a un ragionamento di questo genere relativo alla costituzione di una città metropolitana che ha un territorio a questo punto unitario. Peraltro voi sapete benissimo, ma lo cito per tuziorismo, che l'articolo 23 del vecchio testo unico sulle città metropolitane diceva che si possono costituire le città metropolitane possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato. Questa storia dell'ordinamento differenziato, vi ricordate, no? La grande critica che si faceva sul fatto che tutti i comuni dal piccolo al grande hanno lo stesso ordinamento, all'interno delle città metropolitane è probabile che Roma possa avere un suo ordinamento parzialmente differenziato rispetto alle altre. Peraltro io devo dire che l'articolo 18, perché noi insomma il ragionamento che noi facciamo è tra l'articolo 17 e l'articolo 18 del decreto legge 95 trasformato nella legge 135, quello è il punto, l'articolo 18 dice senza specializzare che le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, eccetera, sono soppresse con consessuale istituzione delle città metropolitane. Però mi rendo conto che il problema per Roma Capitale esiste, e su questo ci sono una serie di implicazioni di cui dirò sulle funzioni. Allora vengo alle funzioni e naturalmente voi capite benissimo che è stata un'operazione di osmosi, nel senso che nel momento in cui si costituiscono le città metropolitane una serie di funzioni gli sono attribuite dalla legge. Ora qui c'è un problema di combinato disposto e di lettura del contenuto di queste funzioni, perché non è così chiaro. Leggo semplicemente l'articolo 18 al comma 7 quali sono le funzioni che sono di regola attribuite. Allora la prima cosa sono le funzioni fondamentali delle province. Poi dopo dice le seguenti funzioni fondamentali, pianificazione territoriale generale delle reti infrastrutturali, strutturazione di sistemi coordinati e di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, poi ci schiaffa mobilità e viabilità e promozione il coordinamento dello sviluppo economico-sociale. Queste sarebbero le funzioni della città metropolitana. Però dobbiamo andare a guardare bene, perché in realtà con questa definizione è come se avessimo asciugato una serie di funzioni che avevano le vecchie province. Le vecchie province avevano molte più funzioni di quanto c'è stato scritto qua dentro. E vado all'articolo 19. L'articolo 19 del testo unico della 267 diceva una serie di cose molto interessanti. Spettano alle province funzioni amministrative e interesse provinciali e parlava di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità, viabilità, trasporti, valorizzazione dei beni culturali, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, protezione della flora, della fauna, parchi e riserve naturali, caccia e pesca nelle acque interne, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti di livello provinciale, semplifico servizi sanitari di igiene e profilassi, compiti relativi all'istruzione secondaria di secondo grado, eccetera, eccetera. No, è quello il punto su cui io mi sono arrabbattato in questi giorni anche chiamando alcuni colleghi che più si stanno cimentando su questa cosa. Perché? Perché c'è un punto... Allora, l'articolo 17, che è quello che ci interessa, il comma 10, è riportato qua sopra? No. Il comma 10 dell'articolo 17 dice che all'esito della procedura di accorpamento, è semplice, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di aria vasta ai sensi del 117 secondo comma lettera P, questo richiamo è decisivo della Costituzione e ne abbiamo di un altro tipo, ma che già in qualche modo ci sentivamo vicini, e cioè la pianificazione territoriale e provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, questo è un vulnus da sanare, ma dirò dopo. Poi pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale e scende autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti. Quelle che io ho elencato adesso rientrano nel articolo 18 settimo comma, dove si dice alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, quelle che ho descritto ora sono le nuove funzioni fondamentali delle province ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera P. Il 19 non c'è più, cioè il 19 a mio avviso, ma anche di altri, non si applica ora mai più alle province, perché alle province spettano le funzioni dell'articolo 117 e di conseguenza alla provincia città metropolitana spettano quelle cose successive pianificazioni delle reti infrastrutturali e le funzioni fondamentali. A me naturalmente la questione si spiega perché nella logica di questa spending review l'operazione è partita col fatto per carità svuotiamo le funzioni delle province perché le dobbiamo dare ai comuni. Tanto è vero che voi sapete benissimo che c'è una disposizione che prevede appunto proprio un'operazione di questo genere che poi non si è perfezionata, perché questa operazione di svuotamento delle funzioni provinciali per l'assegnazione dei comuni non si è ancora realizzata, ma come richiamava qualcuno, l'articolo 23 del 214 del 2011 diceva, badate che alle regioni, alle province gli aspettano solamente le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni. Scusate se è complicato però, orbene ne consegue che il ragionamento che sto facendo io e sul quale sto cercando di attirare la vostra attenzione è che il bell'articolo 19 che parlava di difesa del suolo, di valorizzazione dei beni culturali, di protezione della flora, in qualche modo teoricamente conculcato nelle funzioni che sono nell'articolo 18, ma non ci sono tutte, non ci sono tutte. E allora vengo alla questione generale, è quella che più ci interessano perché è il problema della pianificazione, e cioè andiamo all'articolo 17 che giustamente ha detto che queste sono le funzioni fondamentali delle province, perché quando si fa riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera P è competenza riservata dello Stato nell'individuare le funzioni fondamentali di comuni, province e compagnia. Ormai le funzioni fondamentali delle province sono queste. E allora per sentirci un po' più confortati andiamo a vedere cosa sono. E intanto abbiamo il piano territoriale di condimento provinciale che ormai quello non ce lo toglie nessuno. Nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza qui sembra come dire asciugare questa funzione della tutela dell'ambiente. Mi fermo un attimo su questo perché poi si parla di pianificazione dei servizi di trasporto di ambito provinciale. Allora qui il problema è come coniugare il piano territoriale di coordinamento provinciale e gli aspetti di tutela e valorizzazione dell'ambiente con quell'altra cosa che sono le funzioni fondamentali della provincia che passa autodidicamente alla città metropolitana con la funzione precipua attribuita di nuovo conio alla città metropolitana che è invece la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali. Si tratta di capirci perché naturalmente qui la questione è molto delicata perché il contenuto del piano territoriale di coordinamento è rimasto salvo nell'articolo 20 del testo unico 267 che è molto ricco, rileggiamocelo, non adesso. Poi di fatto il piano territoriale di coordinamento è uno strumento che vale quanto il 2 di coppe. Per la semplice ragione che non è conformativo la giurisprudenza ha detto non ti azzardare a imporre vincoli per fare tracciati autostradali o fare questi perché come dire non ha efficacia diretta, devono essere scelte, che devono essere recepite dai comuni e compagnia bella. Quindi il piano territoriale di coordinamento provinciale ci si domanda se sia cosa diversa dalla pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali o buon Dio lo possiamo saldare, lo possiamo fondere in un unico strumento? Qui non è un problema però di autonomia statutaria perché questa è una norma di legge, non è che nello statuto la città metropolitana dice vabbè allora il piano si fonde a queste funzioni, magari a affetti conformativi eccetera eccetera, perché questa è norma di legge lo statuto può regolare i rapporti, le modalità di comportamento, l'organizzazione delle funzioni ma non può incidere in questo settore che è previsto da norma di legge. A questo punto poi magari facciamo un dibattito, a questo punto si pone il problema del contenuto di questi piani. Qualche urbanista dirà ma che bello abbiamo inventato il piano strategico e così andiamo avanti col piano strategico che analisi dei bisogni che però anche quello non ha nessuna efficacia. Come diceva qualcuno mi sembra Salvatore e però lo escludeva perché siamo di fronte a Roma capitale, il problema è che per dare un contenuto a questi piani che incidano sulla proprietà indirettamente o direttamente non è possibile utilizzare dello statuto, ci vuole la legge. La domanda è questa, quale legge? La legge regionale o la legge statale? Siamo in materia di governo del territorio, lo Stato si limita a emanare principi fondamentali della materia e quindi naturalmente la legge regionale dovrebbe domandarsi, cioè la regione dovrebbe domandarsi se questo è un principio fondamentale della materia e però è talmente vago il contenuto del piano che gli si deve dare sostanza. Allora se per caso il legislatore statale ha inteso introdurre un nuovo strumento di pianificazione chiamato pianificazione territoriale generale delle reti infrastrutturali ed è principio fondamentale della materia, la regione Lazio, purtroppo la regione Lazio perché quella ci abbiamo, dovrebbe all'interno della materia del governo del territorio quindi nella nuova legge urbanistica e determinare il contenuto di questo piano territoriale generale delle reti infrastrutturali e possibilmente fondendolo col piano territoriale di coordinamento per dargli una certa efficacia, perché altrimenti secondo me da questo punto di vista noi non risolviamo il problema. Ora naturalmente è chiaro come tutti si sono subito cimentati nel dire… Allora il problema naturalmente come si era detto anche quando si studiavano la legislazione metropolitana inattuata, si pensava che si sarebbe fatto uno structure plan e poi i piani attuativi, cioè i comuni avrebbero ridotto la loro capacità di pianificazione prevedendosi i piani che meramente attuano le scelte della pianificazione sovraordinata. Ma anche questo è un'intuizione, una considerazione, ma se questo non è sancito da una disciplina urbanistica e quello secondo me non è tanto qui il vulnus della città metropolitana dal punto di vista della pianificazione, ma è proprio lì, alla legge regionale, ammesso come dice Bellomia che si possa utilizzare della legge regionale e che non ci sia una riserva di legge statale per Roma Capitale, ma io tenderei a non considerarlo. Comunque il problema è il rapporto che si porrà tra questa pianificazione che sostanzialmente mira alla gestione non dei servizi personali, ma dei servizi reali, servizi reali intesi come le reti, le infrastrutture che si devono realizzare, eccetera, eccetera, e quindi del rapporto tra i sopravvissuti piani regolatori dei comuni e il nuovo strumento di pianificazione sovraordinato a cui dobbiamo dare un contenuto. Detto questo, ma a questo punto non è che c'è molto altro da dire, e tornando alla questione, lo statuto non può incidere su queste cose, ci vuole una legge, se del caso regionale, si tratta di capire se questo è un principio fondamentale, si tratta di capire se la legge regionale del Lazio può, in materia di governo del territorio, introdurre specificazioni da questo punto di vista, di questo nuovo strumento, diciamo, introdotto e soprattutto, lo ripeto, ma proprio per le aspirazioni che si avrebbe di fare una pianificazione della mobilità, della circolazione, considerando l'intera area metropolitana, o questo piano ha un'efficacia conformativa del territorio, almeno, o se no, non serve a nulla, perché se dobbiamo prevedere che le disposizioni di questo piano, in alcuni casi, per essere efficaci, debbano essere prima recepiti negli strumenti urbanistici comunali, non serve a niente, voi sapete che in materia paesaggistica la zoomata del vincolo perfora il piano e lo rende efficace, se noi ci rimettiamo in una situazione indiretta, non riceviamo per alcune questioni fondamentali. Dopodiché, naturalmente, quindi, detto questo, la valorizzazione dei beni culturali, la difesa del suolo dell'articolo 19, non ci stanno più, la sistemazione delle redi idriche, non ci stanno più. Mi domando, la provincia rilasciava le concessioni di derivazioni d'acqua pubblica e a mo' chi le rilascia? I comuni? Non è possibile, perché è una disciplina sovracomunale, lo dovrà fare, dovrà farlo? Non si sa se viene attribuito alla città metropolitana o meno, ma ecco perché io ritengo, ritengo che secondo me il legislatore avrebbe fatto benissimo, esattamente come ha proposto di fare per l'individuazione delle funzioni provinciali da passare ai comuni, cosa che poi il decreto non è stato portato avanti, se in realtà facesse un decreto, un DPCM più che un decreto legislativo, in cui individuasse esattamente il contenuto di queste funzioni, perché diventa decisivo. Passo ad altre questioni e naturalmente qui ci poniamo il problema della strutturazione di servizi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici, interesse generale in ambito metropolitano. Qui ci può essere di tutto nei servizi pubblici, perché non possiamo pensare ai servizi pubblici a rete, possiamo pensare ai settori dei trasporti, possiamo pensare financo all'edilizia abitativa che è un servizio, possiamo pensare all'edilizia scolastica che è scomparsa, qui non la trovo. Quindi il problema dell'organizzazione di questi servizi di area vasta è sicuramente sarà frutto di collaborazione e di intese con i comuni. Cito solamente una cosa banale, che mobilità e viabilità è una cosa interessantissima, però l'articolo 19 di non so che cosa, non mi ricordo, ci dice che comunque il trasporto pubblico locale è funzione di conservare i comuni. Ne consegue evidentemente che c'è già una separazione, una frattura tra quella che è l'organizzazione del servizio ferroviario, per esempio, di carattere metropolitano e trasporto pubblico locale. Non sono poche le situazioni che si creeranno da questo punto di vista. Io praticamente avrei finito perché queste sono le questioni che ci troviamo di fronte. Naturalmente non ho elencato da uno studio che è stato fatto recentemente qui, molto interessante, su tutte le funzioni che attengono appunto alla mobilità, che attengono allo smaltimento dei rifiuti, che attengono alla localizzazione delle aree per i rifiuti, cioè tutte funzioni che in qualche modo adesso sono diventate carbonare e non si sa chi dovrebbe svolgerle e che naturalmente vanno riportate all'interno delle funzioni complessive della città metropolitana se gli si vuole dare una struttura che riesca a favorire lo sviluppo. Grazie.